Oggi vi farò vedere cosa ho comprato l'altra volta. Ho comprato queste due buste. Guardate cosa c'era qua dentro. In ognuna c'era il magazine che in questo caso io avevo trovato la fregata aquila che è così. Qua c'è scritto che è un uccello diffuso lungo le coste dei mari tropicali. Il maschio è famoso per la grossa sacca golare di colore rosso che utilizza per attirare le femmie. Significa esclusivamente sull'isolotto di Boswein bordo nell'oceano atlantico. E poi l'altro era questo un pappagallo a ramacao. E di questo ci dice che è originario nelle foreste dell'America tropicale e l'uccello è l'uccello nazionale dell'Odwells. E' famoso per il suo piumaggio scarlatto blu e giallo. Bene ragazzi il video finisce qui non vi dimenticate di iscrivervi al canale Ciao a tutti